buongiorno vi volevo far vedere l'accensione della pirolisi della pirolitica quello che vi mostrerò tra mancano ancora penso 30 iscritti ecco questo è l'accensione della pirolisi vedete l'area secondaria è chiusa l'aria primaria è chiusa questa è ora vi spingo questa è la stufa all'interno e questa sarebbe la fiamma ok quindi zero fumo perché sennò qui farebbe molto molto fumo vedete ok quindi se io praticamente chiudo questo coperchio era solo per dimostrazione se io chiudo questo coperchietto la fiamma verrà indirizzata cioè da qui nel giro fumi quindi la vediamo qui ok lo vediamo già qui era per farvi vedere ora spegniamo la luce per farvi vedere la fiamma e senza fumo io una fiamma qui dentro senza fumo assolutamente no poi ho messo anche il rilevatore di monossido non è assolutamente non abbiamo il monossido abbiamo già l'aria che va nel nel giro fu vediamo se cosa succede vi faccio vedere cosa succede se io apro l'aria secondaria vedete viene indirizzata nel tiraggio ok invece io posso girare chiuderla e ci troviamo il caldo nella stufa va bene ora tra poco vi farò vedere io ho preparato qui vari combustibili anche questo bricchettino qui vi ricordate di carta pressata e poi c'era anche un po di palette e niente vediamo cosa succede appena andiamo a vedere la pirolisi che è già già iniziata perché ci sono proprio tre legnetti appena metto in pausa poi vi faccio vedere dopo ecco in questo momento i legnetti si sono pirolizzati vedete ora questo ecco la pirolisi riuscite a vederla io provo no qui non dovrebbe fare vedete più di tanto caldo questa è la pirolì quindi si è carbonizzato ecco il legno ora vediamo se riesco a farvelo a vedere si è pirolizzato e lei brucia in continuazione ora ok vedete legno ok quindi proviamo a mettere questo combustibile qui che sarebbe ve lo ricordate ok quindi abbiamo messo quel bricchetto ecco che bei colorini che fa la fiamma azzurra ecco preso fuoco ok adesso chiudiamo vi ho fatto vedere come pirolizza qualsiasi qualsiasi cosa che noi mettiamo dentro ok il bricchetto poi possiamo mettere o mettere e mi sposto possiamo mettere delle foglie dei brami secchi delle cose anche verdi oddio dei bacchetti verza e l'albero adesso non è che non possiamo tagliare i rami farle entrare dentro pirolizza qualsiasi cosa cioè noi mettiamo dentro dentro e fa un caldo ora misure come vi ho fatto vedere anche l'altra volta quindi 280 abbiamo vediamo se prendiamo la canna fumaria e in uscita vedete 80 vediamo anche ora cerco di zoomare meno proprio uscita fumi 54 quindi praticamente fumi sono freddissimi in uscita non abbiamo fumo fuori ora riapriamo vedere il nostro bricchetto di carta che fine ha fatto si sta pirolizzando poi qui è molto caldo ragazzi ve lo dico e questa è la stufa che poi vi farò vedere semplicissima tutti lo può potete fare non ha necessità di ecco il forno con quei legneti pirolizzati è arrivato a 100 150 160 gradi quindi tra un po tra dieci minuti si potrebbe fare anche una bella gianbellina niente io vi saluto io vi saluto e poi ci vediamo con il prossimo video per farvi vedere la stufa ciao ciao